La ricapitalizzazione di Longarone e Fiere cambia gli equilibri tra i soci più peso a Camera di Commercio e Regione con Veneto Agricoltura e anche il Consiglio Provinciale ha approvato l'aumento di capitale già disposto dagli altri soci pubblici della partecipata. Sicuramente è un'azione fondamentale per la quale il CDA ha chiesto ai soci un intervento importante per rilanciare il nostro ente che soprattutto dopo il Covid ha subito delle grandi difficoltà dal punto di vista economico-finanziario. Questa è anche un'occasione per mettere a posto i padiglioni ma soprattutto per guardare al futuro con grande fiducia in un momento in cui gli enti fieristici alcuni hanno chiuso in questi anni e altri sono in difficoltà. Longarone e Fiere invece tiene. La ricapitalizzazione prevede un versamento da parte dei quattro soci pubblici per l'aumento del capitale con la ragione che passerà dai 13.000 euro attuali a 227.000. Sono 800.000 euro, di fatti suddivisi nei quattro soci pubblici, che arriveranno a un complessivo circa 86% nelle quote di partecipazione all'interno della società per portare il capitale da 338.000 a 1.138.000. Un passaggio importante saranno delle risorse che ora potranno essere utilizzate con due nuove fiere che partiranno nel 2025 e tante altre novità che mi auguro possano, ripeto, far tornare la fiera di Longarone un riferimento fondamentale.